Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un delizioso appartamento bilocale ubicato a Roma, zona morena a Nanghina, esattamente in via Ardesio. Ilizioso appartamento bilocale ubicato a Roma, zona morena a Nanghina, esattamente in via Ardesio. Entriamo in un camminamento che ci conduce nel terrazzo di circa 20 metri quadri dell'immobile nel quale attualmente è ubicata una casetta in legno utilizzabile come zona svago o come deposito per gli attrezzi. Casetta che è comunque rimovibile in modo da rendere il terrazzo ancora più godibile. attraverso una porta blindata entriamo nel soggiorno dal quale si accede alla cucina a vista. Ilizioso appartamento bilocale Grazie a tutti. Tramite un corridoio accediamo alla camera matrimoniale e al bagno dotato di doccia e senza finestra. L'immobile ha pavimento in parquet ad eccezione del bagno, infissi nuovi con doppio vetro, zanzariere, grade antintrusione ed è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia a gas e di aria condizionata. Internamente lo stato dell'appartamento è ottimo. L'immobile è ubicato al secondo piano di una palazzina con ascensore che attualmente è in fase di riparazione con spese straordinarie già deliberate e pagate dal proprietario. Abbiamo visitato un bellissimo appartamento bilocale di circa 50 metri quadri e con 20 metri quadri di terrazzo esterno, soleggiato, silenzioso e con affacci nel verde. L'immobile ha una tripla esposizione est-sud-ovest e risulta molto luminoso e silenzioso. Le spese condominiali ammontano ad euro 70 al mese circa, il riscaldamento è autonomo, è dotato di aria condizionata. La categoria catastale è A2 e la rendita catastale ammonta ad euro 488,05 centesimi. Per vedere foto, video e planimetrie di questo appartamento puoi visitare il nostro sito www.lrimmobiliare.it oppure tutti i nostri canali social. LR Immobiliare è la tua casa in buone mani.